Perché non è il Lolly Grail? Qui abbiamo due persone, spero che lo capiate, che dicono uno dice il nostro prodotto fa schifo e il nostro CEO passa la maggior parte del tempo a giocare a solitario sul computer l'altro allora dice ok, allora dai, invitiamo i dipendenti a fare un blog veloci, cominciamo a usare i social media, ma se il prodotto fa schifo o se l'evento fa schifo alla gente non gliene frega niente se utilizzate i social media o meno, li potete utilizzate ma questo non toglie il fatto che il prodotto continua a fare schifo quindi che si tratti di un prodotto o di un evento che volete promuovere innanzitutto assicuratevi che si tratti di un prodotto di qualità perché i social media non è il sacro grale, non risolverà tutti i vostri problemi se qualcosa fa schifo, farà schifo anche con i social media e poi il trucco del marketing è di avere qualcosa che è così figo, così interessante, eccezionale che anche voi vorreste parlarne anche se non fate parte del business questo è qua grazie 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 grazie